Buon pomeriggio, Yosef, in sono tornato a Macerata ed ho intenzione di farti tremare la cosina tutti i giorni. Ci scrivono ancora gli amici della APS, Associazione Pettegoli Pianeta Sa. Ti vorremmo ricordare che tra le colpevoli, oltre alle zoccole di Victoria's Secret, ci sarebbero le straputtane di Chanel. Ringrazio per la solita puntuale segnalazione e ne approfitto pertanto per comunicare alle scrofe mafiose aliene. Che la mia guerra non è nemmeno cominciata. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi.